Chiamo adesso una ragazza giovane, Silvia Datteroni. Mi dispiace, è forse una delle poche ragazze, se posso usare questa espressione, che abbiamo invitato. Forse abbiamo sbagliato, un'altra volta saremo più aperti ai giovani. Silvia ha studiato con Paolo Italia a Siena, solo a Siena, vero, non a Roma. Siena fa ora il suo dottorato a Granada, si è occupata della catalogazione del fondo Bassani a Parigi e ci parlerà del problema della ricezione di Bassani in Spagna nell'epoca post-franchista. Aggiungo una piccola postilla. Noi avremmo dovuto avere in realtà una relazione bipartita fra lei e Renata Bruschi, che si sarebbe occupata della ricezione di Bassani in Sud America. Allora, in questo via vai, è possibile fare il viaggio, non è possibile fare il viaggio, abbiamo ora ricevuto da Renata Bruschi un testo scritto, che purtroppo non abbiamo il tempo di leggere oggi. Allora, io proporrei a tutti, se con l'aiuto di Rosi, che mi è sempre indispensabile, noi facciamo delle copie, domani ve ne faremo omaggio, in questo modo chiuderemo, diciamo, la ricezione nei paesi di lingua spagnola con un importante appendice, che appunto è l'America Latina. La parola a Silvia. Grazie. Allora, io credo che per introdurre Giorgio Bassani in Spagna sia necessario adesso tracciare un breve panorama storico-politico di quelli che sono stati poi gli avvenimenti più importanti della storia della Spagna. E mi riallaccerò anche all'intervento del collega Andrea Bresadola, perché è essenziale capire come si sono dati poi, cioè quella che è stata l'avventura di Bassani anche a partire appunto dal franchismo. Quindi forse mi ripeterò un attimo, però traccerò brevemente un po' il panorama. Nel 1939, alla fine della guerra civile spagnola, in seguito al golpe militare del generalissimo Francisco Franco, si edifica una dittatura che durerà più di 30 anni, caratterizzata da una continua repressione delle libertà personali ed espressione, che solo verso la fine degli anni 50 inizia ad ammorbidirsi grazie a una serie di manifestazioni universitarie che minano la stabilità del regime. Grazie. Durante il franchismo, la penisola iberica, affiancata da un organismo regolatore come quello dell'Officina di Orientazione Bibliografica, cioè la censura in parole povere, diffonde un tipo di cultura ufficiale, finalizzata a potenziare una solida immagine del regime, limitando la costruzione di un retroscena culturale libero e critico. L'alternativa a questo stato di cose sarà l'assentarsi di una controcultura che creerà di tutta risposta un realismo social di denuncia, erede del tremendismo degli anni 40, ma con una proposta sociale dalle risorse stilistiche limitate, sacrificate in funzione di un discorso asciutto e fedele alle problematiche dell'epoca. La controcultura spagnola si mostra particolarmente ricettiva in quegli anni verso esperienze letterarie straniere, quali quella francese, del nuovo roman, la nordamericana e l'italiana, che riceve e rielabora secondo l'urgenza del proprio discorso sociale. Nel caso dell'Italia si interessa soprattutto agli scrittori legati all'esperienza del neorealismo, che pare essere il modello che meglio aderisce alle caratteristiche della novella social di recente creazione, poi grazie anche alla mediazione cinematografica. Grazie all'attività di alcune riviste e di alcune case editrici impegnate ideologicamente nella lotta contro il franchismo, si crea nella penisola iberica una rilevante piattaforma critica della controcultura spagnola e si stabiliscono importanti basi ideologiche per un cambiamento concreto, in un panorama di cocapitalità intellettuale tra Madrid e Barcellona. In particolare, chi aprirà un canale di comunicazione e di scambio tra la Spagna e il resto d'Europa, come abbiamo visto, sdoganando poi il tabù della censura franchista, sarà l'editore Carlos Barral, esponente della famosa gauche divine catalana. Con la creazione degli Enquentros for Mentor nel 1959, ovvero riunioni annuali del mondo editoriale internazionale organizzata a Mallorca, farà conoscere oltre friontera la difficile realtà culturale della Spagna, diventando in poco tempo un editore militante e pericoloso. Gli orientamenti stereofili di Barral, direttore in sex Barral, la casa editrice di famiglia, sono indirizzati a promuovere uno svecchiamento della cultura spagnola, repressa dalla dittatura. Con gli incontri for Mentor si crea in particolare un cortocircuito culturale italo-spagnolo che legherà Barral a nomi autorevoli dell'editoria italiana, come Inaudi e Feltrinelli, scomodi entrambi per il regime a causa dei loro orientamenti politici. E sarà proprio Carlos Barral il primo editore, come abbiamo visto già, spagnolo a introdurre Bassani nella penisola iberica. Come abbiamo accennato poco sopra, a causa del carattere d'urgenza della letteratura spagnola di quegli anni, che per contingenze storico-culturali sembra fagocitare prodotti letterari allogeni, livellandone le esperienze eterogenee, è possibile che in un primo momento la ricezione di Bassani sia stata, per così dire, complicata. Quello che voglio dire è che probabilmente la specificità narrativa e ideologica di Bassani non sia stata percepita dalla critica spagnola come un'espressione di alterità e lo scrittore sia stato visto come un esempio stilistico tra i molti, inserito all'interno di una generale etichetta di modernità, questo perlomeno inizialmente. È necessario a questo punto domandarsi in che misura si giustifica il realismo atipico di Bassani in Spagna e se questo ha portato una dimensione narrativa o teorica diversa rispetto all'esperienza neuralista. La ricezione di Bassani inizialmente è ostoccolata su più fronti. Lo scrittore ferrarese è una figura molto scomoda perché è un attore, abbiamo visto, Einaudiano o inaudito, come dice Barral nelle sue memorie, e Giulio Einaudi è osseggiato dalla stampa spagnola, sia molto genericamente per i suoi orientamenti di sinistra che per aver pubblicato i canti della nuova resistenza spagnola nel 1962 con la collaborazione degli intellettuali spagnoli più temuti appunto dal regime con Ocelai, Ablas De Otero, José Agustín Goetisolo e López Paceco. Durante un'intervista del 1994, Giulio Einaudi, alla domanda di Daniela Pasti che chiedeva se il premio Formentor attivato dagli incontri Formentor fosse finito per l'opposizione del regime, l'editore torinese spiega non cito, non proprio, quando il signor Picher, direttore generale dell'editoria spagnola mi invitò con una lettera a ritirare il libro sui canti della resistenza spagnola e io rifiutai, il governo, che non vedeva di buon occhio il premio perché sfuggiva la sua influenza, mi dichiarò persona non gradita in Spagna. Allora gli altri editori, per solidarietà, resero il premio itinerante. Questo spiegherebbe allora la postilla all'edizione spagnola di Dietro la Porta che viene censurato nel 1965 con la seguente dicitura, cito «Refused the Italian version, we are going to submit the French translation since we suspect the Italian editions are dumped towards luck», in cui è evidente il riferimento all'editore italiano di Bassani, Giulio Einaudi. Giorgio Bassani poi è conosciuto anche come direttore editoriale in Feltrinelli, altra bestianera del franchismo, che oltre ad aver pubblicato nel 1960 un pamphlet intitolato «Romancero della resistenza spagnola» è il promotore delle voci più trasgressive dell'opposizione intellettuale, Castigliana come fratelli Goetisolo, appartenenti, anche loro come Barrali, Giuseppe Maria Castelliette alla Scuola di Barcellona e Luis Martín Santos. Inoltre, sul versante narrativo, Giorgio Bassani è un autore complesso, sia per la specificità tutta italiana dei contenuti, che per quella sua estetica dell'implicito, che si traduce in un linguaggio sostenuto e sicuro, come dirà Jaime Pintor in una lettera a Bassani, e in un continuo ficcarsi nella cronaca più cronaca per tirarne fuori un velo solido racconto morale, come invece dirà Calvino sempre allo stesso Bassani. Quella sua complessità, espressa da Pintor e Calvino, sarà il fattore discriminante che rallenterà la sua ricezione da parte di un pubblico da troppi anni a digiuno culturalmente, e quindi impreparato a una letteratura di qualità. Dice Barral nelle sue memorie, parlando della letteratura d'oltre frontiera, cito, E forse sono considerazioni di questo tipo che porteranno Barral a dire all'inder «Siamo molto interessati al Bassani, anche se non crediamo troppo probabile che diventi un best-seller, come pare sia accaduto in Italia». Tuttavia, sarà proprio quella sua complessità, sconosciuta al pubblico, che invece attrarrà la marginale comunità intellettuale spagnola, che, ormai in contatto con l'intelligenza europea, grazie agli incontri formentor, notava, cito, e il contraste entre la poetica neonaturalista casi uniforme dello scrittore e spagnolo e la diversità alentata por experiencias e búsqueda expressivas dello europeo e si dichiarava bisognosa di forgiare e definire uno stile proprio. Di fatto, se consideriamo i dibattiti culturali dell'epoca, così come certe riflessioni critiche su periodici o riviste specializzate, è possibile rintracciare una nervatura teorica condivisa da quegli intellettuali spagnoli che potremmo definire riformisti, che si interrogano ormai su questioni stilistiche e provano ad offrire un nuovo prodotto nazionale, guardando alle esperienze letterarie più affini, tra cui quella italiana. Infatti, già negli anni Sessanta la Spagna è la ricerca di una narrativa che sia ancora sensibile ai problemi sociali, però ormai emancipata dal tremendismo degli anni Quaranta e bisognosa di andare oltre un realismo critico di denuncia. Cerca in pratica un modello di narrativa che continua a minare le basi pseudoculturali del regime, ma in grado di mostrare tutta la complessità della realtà nazionale. La novella social, così concepita, e il suo sermo humilis iniziano a non essere più sufficienti. Nel 1961, per esempio, nella rivista Accento Cultural, lo scrittore Juan García Ortelano si chiede preoccupato se la suddetta letteratura d'urgenza non fomenti una despreoccupazione estetica. E nel suo libro di memoria, l'editore Carlos Barral, a proposito della letteratura neonaturalista degli scrittori di Madrid, si sofferma sui limiti strumentali della prosa spagnola che avevano dato luogo a personaggi schematici semplicemente raccontati. Dice specificamente nessuno di loro pretendeva allora avventurarsi in profondità nelle nebbie e le paludi di una comunicazione polivalente e complessa e il radicale manicheismo degli approcci escludeva le ambiguità dell'approssimazione ai significati morali e non si interessavano nemmeno ai personaggi con un mondo linguistico e mentale più complicato del parlato che li circondava e del linguaggio in cui si pensava fossero scritti i libri contemporanei che avremmo dovuto leggere. I limiti stilistici evidenzati da Barral proseguono poi numerose e ulteriori riflessioni critiche. Solo a modo di esempio sottolineerei una critica un giudizio sulla letteratura della generazione di mezzo del critico Antonio Villanova che nel 1967 rifacendosi poi i limiti strumentali dei romanzi spagnoli a cui accennava Barral conclude impostazione questa cioè quella dei limiti che ha portato i principali rappresentanti della scuola del realismo sociale a dimenticare che la vera missione del romanziere non è quella di creare personaggi tipici in situazioni tipiche ma quella di rappresentare la vita attraverso i caratteri umani. La letteratura spagnola dell'epoca era da considerare in un certo senso come il risultato frettoloso di un tentativo estremo di comprendere una realtà difficile da assimilare una realtà socialmente e politicamente complessa che scaturiva da un trauma collettivo come quello della guerra civile che aveva sbriciolato l'identità della nazione e aveva avuto come epilogo franco. La letteratura sociale di allora poteva considerarsi quindi come un mezzo cioè uno strumento necessario con cui trattare una ferita storica imponderabile. Da questo punto di vista l'eleganza stilistica con cui Bassani affronta la propria ferita imponderabile può aver costituito un originale modello estetico al quale attingere. È probabile insomma che Bassani almeno inizialmente abbia offerto agli spagnoli un esempio completo e complesso di retorica con cui trattare un trauma storico di quelle dimensioni e abbia fornito loro gli elementi estetici e stilistici necessari per emanciparsi dalla semplificazione storica del realismo social. Non è un caso che Carlos Barral abbia rivolto un'attenzione costante al ferrarese. Nello specifico parliamo di due decadi durante cui ha provveduto a pubblicare l'opera di Bassani nonostante tutto e nel 1970 anno in cui lascia la Sex Barral per fondare Barral Editores non perderà di vista Bassani e nonostante imponenti difficoltà finanziarie pubblicherà l'Ida Mantovani e l'Otra su Historia de Ferrara nel 1971 come abbiamo visto e lo Santiago de Oro nel 1974 con il nuovo marchio editoriale. Interpretando quindi le dichiarazioni precedenti e il dato filologico editoriale a nostra disposizione potremmo esporci un po' e dire che Giorgio Bassani può essere considerato un esempio silenzioso di una transizione che va da un realismo d'opposizione alla ricerca di un'estetica realista. Infatti se ci rifacciamo anche a certe riflessioni bassaniane a proposito dei limiti artistici del neorealismo e della sua poetica notiamo delle dichiarazioni che mostrano una certa complicità anche se vogliamo indiretta con le riflessioni prodotte dalla critica spagnola. Dice Bassani a proposito del neorealismo cito la realtà si configura sempre come un pretesto ne consegue che i contenuti della sua arte gli animati al pari degli inanimati non assumono mai concretezza peso morale in conclusione piuttosto che gli uomini e le cosse della vita reale a premergli e la loro poesia impressione contraddittoria di perizia letteraria e sostanziale povertà poetica. Bassani pare dunque condividere con gli spagnoli la ricerca di una posizione umana e artistica anellata da Lopes Paceco che porta alla creazione di personaggi letterari simili cito agli ombre sui incarni hueso di cui già parlava Fernando Santos Fontela nel 1960 nella rivista Quadernos. Riguardo poi la sua poetica nell'intervista del 1966 presso l'Istituto Italiano di Cultura di New York alla domanda sull'impegno politico delle sue opere Bassani risponde in Italia io passo per essere uno degli ultimi dinosauri di un'epoca ormai il tramonto in cui l'impegno politico era generalmente comune non soltanto nelle dichiarazioni ma anche nelle realizzazioni degli scrittori. L'arte deve essere pura per una specie di fallimento dell'impegno io voglio continuare a raccontare delle storie credibili che servano a spiegare a tutti quelli che sono nati e cresciuti con me che cosa è stata ed è la loro vita che significato ha avuto per me e per loro poi nonostante questa pretesa niente affatto poetica non potrò fare a meno di sperare nel tempo stesso di raggiungere la purezza. Se in Italia dunque Bassani si sente uno degli ultimi dinosauri di un'epoca ormai il tramonto per il fatto di procrastinare un'arte utile e al tempo stesso poetica che ci restituisca la vita nel suo complesso in Spagna certe riflessioni iniziano solo allora ad affacciarsi ad un orizzonte critico sprovvisto di esempi autoctoni la medietà sartistica di Bassani rintracciabile tra due modelli estremi di concepire la letteratura quali il neuralismo e la neoavanguardia sembra trovare allora un referente nella Spagna degli anni 60 così l'anacronismo di Bassani in patria diventa un discorso attuale in una nazione che deve rifondare la propria letteratura nazionale dalla transizione democratica in poi ovvero dal 1975 anno della morte di Franco la ricezione di Bassani cambia nel senso che si fa molto più specialista e più attenta alla specificità dell'opera dello scrittore il 1975 sarà un anno cruciale per la Spagna che si avvia verso una transizione democratica esente da rivoluzioni o rotture politiche precipitose il carattere di continuità del cambiamento sottolineato eloquentemente da Paul Hill in un saggio intitolato La continuità dentro della discontinuità in cui rintraccia l'inizio della fine del regime nel 1956 anno delle sommosse universitari insieme al movimento socialista di Thierro Galvan alle quali accennavamo prima si riflette anche in letteratura di fatto i primi sintomi di un esaurimento stilistico della corrente realista si affacciano già nel 1962 anno della pubblicazione di Tiempo di silenzio di Luis Martín Santos che coincide con l'avvio di un realismo dialettico che aprirà a sua volta nuove esperienze letterarie in cui la proposta sociale verrà sacrificata in vista di una maggiore attenzione al soggetto quello che molto genericamente Gonzalo Sobejano chiamerà letteratura insimismada così mentre l'estetica realista spagnola non trova più referenti autorevoli a partire dalla transizione Bassani continua a suscitare molto interesse proprio per il carattere di eccezionalità della sua prosa lirica in un momento storico preciso in cui la Spagna ormai libera si confronta per la prima volta con una cultura la cui dimensione pare farsi sempre più globale e inizia a sperimentare un tipo di metanarrazione che darà poi i suoi migliori frutti intorno agli anni 90 con Villa Amata Smugno Smolina a Javier Marioso o Juan Beneta tanto per citare alcuni giganti del lettere spagnole la critica di Nicchia non perde di vista Bassani soprattutto dopo il 1980 in occasione della pubblicazione italiana del romanzo di Ferrara la curiosità e l'interesse verso l'opera del ferrarese aumentano si moltiplicano articoli recensioni alle opere si realizzano interviste in occasione di alcuni viaggi di Bassani Spagna sempre come invitato d'onore a seminari riunioni o tavole rotonde prestigiose colpisce la sua cito Mirada Azul nelle lunghe passeggiate durante l'incontro degli scrittori del Mediterraneo a Valencia nel 1983 quando Antonio Colinas che poi nel 2004 prologherà un'edizione del Giardino in edizione di Madrid e Spasacalpe si intrattiene con lo scrittore a parlare delle responsabilità alle quali deve far fronte uno scrittore dell'area del Mediterraneo di questo dialogo possediamo un'interessante intervista del 10 gennaio del 1983 intitolata Giorgio Bassani vivimo sul mondo tragico dell'industrialismo altri critici giornalisti e scrittori dell'importanza di Felix Pujol Genaro Talens Robert Saladrigas Antoni Munne Enrique García Maichas eccetera scrivono di Bassani condividendo tutti un fascino che potremmo dire legia con i confronti del Ferrarese se negli anni del franchismo lo scrittore veniva associato a una generale corrente democratica delle lettere italiane insieme a Pratolini Moravia Calvino Pavese Cassola Gadda adesso viene considerato proprio in vista di quel suo cito encanto ajeno come dirà Gelbenzo in un articolo intitolato Un microcosmo che encierra la vita entera e che quindi obliga la critica a riconosciare le qualità sui generis dice sempre Gelbenzo cito Bassani deberia ser incluido dentro del neuralismo italiano por razón de fechas però non hai modo de hacerlo en razón de sua escritura terza bella de apariencia uniforme e poderosas corrientes ocultas apoyada en el detalle sin ser costumbrista Bassani se apoya en un estilo en el que resuena a lo lejos Henry James en el que la busca de le mot juste flobertiana se adivina por detrás de cada frase e en la que la descripción tanto física como psicológica que se encadena en subordinadas de enlace muy limpio no recargado pero si complejo se expande en oleadas suaves y delicadas muy precisas de un sereno vigor que creano un ritmo muy particular de gran viveza expresiva l'artículo que apenas citato es catascrito en el 2007 en ocasione de la reedizione de la novela de Ferrara publicata dallumen con la traduzione di Carlos Manzano a quanto pare a distanza di 4 decadi torna da parte della critica l'interesse per la medietas dello stile di Bassani Gelbenzu parla de l'emo just bassaniano incastonato in un sereno in un sereno vigor di grande vivacità di grande vivacità espressiva lontano dal costumbrismo che tanto aveva compromesso i risultati del realismo social spagnolo pare che Bassani continua ad essere apprezzato e lodato da una classe intellettuale ormai in piena postmodernità grazie alla sua eleganza imperitura un'eleganza stilistica che in passato ricordiamo aveva sostenuto ampere riflessioni critiche utili alla letteratura d'urgenza di quegli anni dagli articoli e recensioni a nostra disposizione risalta in particolare un'ammirazione estrema nei confronti di quel suo stile fin sicontinico ripudiato in Italia dalle frange estreme della letteratura sperimentale che tanto invece era servita alla Spagna durante il lungo sonno franchista Bassani continua a piacere perché è uno scrittore elegante uno scrittore atmosferico di cito matices sutiles tintineos sensuvos timbres nuovos con i quali si appresta a tratteggiare la psicologia dei personaggi se facciamo attenzione ai titoli degli articoli sia di giornale che accademici e alle recensioni su Bassani possiamo avere un'idea di quella che è l'impostazione generale della critica bassaniana in Spagna una critica che progressivamente ha messo l'accento sulla purezza dello stile una purezza invisibile a detta dello scrittore Gelvenso cioè se l'accennata ma costantemente riaffermata dalla potenza drammatica dell'opera un romanzo di verdadero fuste dice ancora Gelvenso dalla fibra narrativa inconfondibile grazie alla quale Bassani viene definito da Alejandro Gandara anche lo scrittore come un classico dimido ed essenziale nello stesso articolo provvedendo a formulare un paragone con Proust Gandara definisce Bassani come un assolo di Owe in una vieja iglesia por la noche la cui prosa tonale senza sussulti ma ben lontana dalla monotonia è in grado di toccarci l'anima per Manuel Hidalgo che dedica un articolo a Bassani sul quotidiano e il mondo in una sezione dal titolo emblematico di Galeria de Imprescindibles lo scrittore pur appartenendo all'epoca d'oro della letteratura italiana è stato cito un verso suelto delle lettere per con la sua elegante prosa e scrittura culta rifinada e limpia che proporziona altos placeres esteticos molte sono state le riedizioni della novella della novella di Ferrara addirittura la casa editrice a Cantilado ha deciso di dare alle stampe il nucleo mitico del microcosmo ferrarese originariamente conosciuto come Dentro le Mura nel 2014 infatti con la traduzione di Juan Antonio Mendes a Cantilado pubblica Intramuros ottenendo un notevole successo editoriale Intramuros o Dentro le Mura è stato definito in seguito alla pubblicazione come cito uno dello ciclo novellistico più importante del siglo XX di una qualità imponente e come una delle sobrali maestras del siglo XX Corradino Vega in stato critico che è la rivista digitale della Biblioteca Nazionale scrive che l'opera di Bassani è una cito intensificazione di tutta l'esperienza umana dato che con suo aire extendito di melancolia e serenità trágica si converte in una obra afirmativa tuttavia ad una lettura più attenta della ricezione critica di Bassani notiamo un dato essenziale sempre presente che va oltre l'aspetto stilistico e cioè l'interesse costante della classe intellettuale verso il valore e l'uso che lo scrittore fa della memoria per dirlo riutilizzando alcune espressioni della critica l'attenzione verso Bassani si condensa in particolar modo sul fermento della memoria altrimenti definito come il compromisso con la memoria europea ciò che ha evidenziato recentemente Joachim Torani in una rivista di politica indipendente chiamata ora è ciò che cita a continuazione in un momento la dura posguerra e un lugar Italia in cui cineastas e scrittori centraban su mirada nel incierto presente Giorgio Bassani volvìa inexorablemente la vista attra mentre il paese querì arrenegar dei sui peccati fascisti sentìa la imperiosa necessità di non olvidare grazie su obra è una toma di posizione contro il passo del tempo un alarde di memoria Bassani si occupa negabilmente di tutta una classe sociale storicamente e geograficamente determinata che tratta secondo le parole di Juan Antonio Méndez traduttore in acantilato con rigor expressivo contenzione afectiva e madurez sentimental già nel 2003 il poeta Luiz Matteo Díez affermava cito volver a la Ferrara de los anni che precedieron a la deportazione della comunità judìa e dar cuenta di quines morirían en los campos di exterminio è molto más che un ejercicio di responsabilità hacia los orígenes di uno stesso in un momento in cui la España bisogno di ricomporre la propria identità come nazione provando a comprender un errore e un errore histórico che le era costato 30 anni di dittatura Bassani offre nuovamente per ragioni ormai diverse da quelle esaminate precedentemente per la guerra civile e il franchismo un altro esempio di utilità della scrittura e dovere di memoria l'impegno e la responsabilità civile che riafferma ad ogni occasione attraverso la sua scrittura lo portano a elaborare una ben nota poetica storicista con la quale riscatta un'intera generazione di vittime carnefici la sua ferita aperta in quanto italiana ebreo antifascista testimone insomma il grado di un'ambiguità storica imperdonabile come le leggi razziali lo porta alla definizione di una politica della memoria come riscatto storico che perpetuerà attraverso la sua poetica anche quando l'Italia ormai ha deciso di dimenticare e passare pagina un po' quello che succede in Spagna e che è successo in un momento in cui per contingenze storiche il discorso sulla memoria e la scrittura come responsabilità è ancora molto attuale e continua a svilupparsi non senza polemiche tanto per fare un esempio e concludo nel 2010 l'illustre scrittore Javier Cercas pubblicò un articolo polemico su Il Paese che si intitola Otra bendita novella sopra la guerra civile lo scrittore partiva da un'affermazione del scrittore Juan Benet che sosteneva che la guerra civile è stata senza alcun dubbio l'evento storico più importante della Spagna contemporanea e forse il più decisivo della storia del momento che niente ha inciso sulla vita dei spagnoli come appunto la guerra civile l'autore del celebre libro Soldati di Salamina polemizzava con l'atteggiamento del perfetto idiota intellettuale spagnolo cioè colui che prima o poi prova a passare per moderno facendosi beffe quindi burlandosi appunto della guerra con queste parole Cercas cercava di rivendicare un passato ancora molto presente i cui traumi tutt'oggi evidenti continuano a ripercuotersi sulla società per Cercas la modernità non consiste nel passare pagina e sperimentare nuove tendenze letterarie senza aver compreso prima un passato che inevitabilmente si riflette su tutta una nazione identificandola in definitiva la prospettiva critica dalla quale parte l'autore non è tanto quella di domandarsi quanto sia stato scritto sulla guerra civile bensì come lo si è fatto nell'articolo appunto di Cercas l'autore si chiede ad un certo punto se i romanze sulla guerra civile hanno ancora da dire alla società e la risposta che si dà è la seguente il dubbio offende la risposta evitente dipende dal talento di chi le scriva e questo Bassani lo sapeva bene quando nonostante le critiche feroci imperterrito continuava a dare testimonianza di un passato che iniziava a significare nel momento stesso in cui veniva riportata la luce una sorta di presente progressivo in cui insinuava uno scrupolo morale quando affermava cito il pericolo lo che incombe sui giovani di oggi è che si dimentichino di ciò che è accaduto dei luoghi dove tutti quanti siamo venuti uno dei compiti della mia arte lo considero soprattutto quello di garantire la memoria il ricordo veniamo tutti quanti da una delle esperienze più terribili che l'umanità abbia affrontato pensi ai campi di sterminio niente è mai stato attuato di più atroce e di più assoluto ebbene i poeti sono qua per far sì che l'oblio non succeda un'umanità che dimenticasse Buchenwald Auschwitz Mautasen io non posso accettarla scrivo perché ci se ne ricordi grazie grazie